Quattai a tutti ragazzi, benvenuti da Giocherinano 179 in questo brevissimo video aggiornamento in cui volevo informarvi sul fatto che praticamente rinuncio a prendere la Playstation 4 a lancio e vi spiego subito il perché, perché comunque io ragazzi lavoro su un portatile che comunque è un ottimo portatile, però per il gaming, anche per il video editing, cosa su cui lavoro anche per conto mio purtroppo il computer fa un po' fatica, non dico che ne fa tanta, però dopo un po' di tempo che monto i video se sono file particolarmente pesanti, il computer si affatica, rallenti, rallenta e cose del genere quindi dovrei comprare un fisso con i controcazzi per appunto il gaming e il video editing quindi siccome non è una spesa da poco, ho preso la decisione di rinunciare almeno per ora a comprare PS4 quindi sono comunque già 400 euro in più che mi ritrovo per il computer cosa che secondo me attualmente ha la precedenza quindi non prenderò PS4 a fine novembre non so quando la prenderò, l'anno prossimo molto probabilmente, credo quindi io l'avevo prenotata da Euronics perché prenotandola davano il regalo, davano, danno tuttora il regalo un secondo pad in omaggio, quindi l'avevo prenotata da loro per questo motivo quindi sono andata da Euronics proprio stamattina ad annullare la prenotazione, ci avevo messo già 50 euro di acconto e quindi ovviamente dovevo rispendere i 50 euro in qualche modo quindi adesso vi faccio vedere piuttosto che magari comprare un altro gioco o un altro paio di giochi a scazzos che comunque ne ho già ancora tanti da fare ho preferito comprare questo ragazzi un altro pad, quindi un altro DualShock perché comunque era da un po' di tempo che dicevo di doverne comprare un altro cioè quello, il mio funziona ancora, ancora perfettamente funzionante però ovviamente gli anni cominciano a farsi sentire quindi anche la batteria notato dura meno e cose del genere quindi a questo punto ho preferito comprare un altro DualShock che costava, come potete vedere, scritto qui 55 euro e 50 quindi ci ho dovuto mettere la differenza di 5 euro e 50 e mi sono presa questo che come potete vedere dal colore ragazzi l'ho preso, come dice qua, metallic grey quindi un grigio metallico sempre un grigio leggermente bronzato ora non ve lo sto ad aprire perché prima di usarlo vorrei comprare una custodia in silicone per questo pad solo che io in negozi non le vedo mai non le ho mai viste quindi devo vedere se riesco a trovare su internet quindi prima di cominciare a usarlo vorrei comprare quella quindi comunque adesso non ve lo apro volevo soltanto informarvi su queste cose e io ringrazio Laila Sniper Laila che mi ha chiesto di collaborare assieme a lei e a tutte le altre gamers di youtube nel video che ha caricato ieri e che vi ho messo anche ragazzi sulla pagina facebook quindi volevo ringraziarla personalmente e volevo appunto dirle che la sua è stata una magnifica idea e mi è piaciuto il discorso che ho fatto inizialmente nel video cioè sarebbe a dire quello di sfatare il mito che le ragazze fra di loro sono soltanto rivali quindi è stata veramente una bellissima idea quindi mando baci a Laila e a tutte le altre ragazze e quindi niente ragazzi grazie a tutti vi ricordo di andarvi a iscrivervi sulla mia pagina facebook vi lascio il link in descrizione vi lascio il mio indirizzo email se volete farmi domande e chiedermi pareri quindi nient'altro da aggiungere grazie a tutti un saluto un bacione e what time a tutti da Giocherina 979 ciao